bentornati a tutti i collezionisti amatori della numismatica oggi in questo terzo episodio di numismatical my collection andremo a vedere tutti i miei 2 euro commemorativi oltretutto se avete bisogno di informazioni se volete sapere qualche curiosità o il valore di un 2 euro che avete basta che me lo scriviate nei commenti e mi raccomando spolliciate il video innanzitutto iniziamo questo episodio con la spagna col primo 2 euro spagnolo cognato nel 2005 in tiratura di 8 milioni di esemplari quattrocentesimo anniversario del romanzo di don quichotte di miguel de cervantes questo è il cinquantesimo anniversario dei trattati di roma è stata un'emissione comune cognata nel 2007 in 8 milioni di esemplari dalla zecca di madrid questo è un 2 euro del 2009 decimo anniversario uem emissione comune per l'unione economica monetaria dell'euro sempre cognato dalla zecca di madrid in 8 milioni di esemplari questo è un 2 euro del 2010 molto particolare in tiratura di 4 milioni di esemplari sempre della zecca di madrid ed è stato il primo dei patrimoni dell'umanità indetti dall'unesco della serie spagnola ed è della grande moschia di cordova molto particolare ha una grande profondità di immagine ed è davvero molto bello è stata una enorme soddisfazione riuscire a trovare questo è un 2 euro del 2011 il secondo della serie per il patrimonio dell'umanità dell'unesco in tiratura di quasi 4 milioni di esemplari sempre della zecca di madrid è il cortile dei leoni della lambra a granada proseguiamo ora con un 2 euro della slovacchia il primo cognato da questo stato decimo anniversario uem emissione comune per l'unione economica e monetaria in tiratura di 2 milioni e 500 mila esemplari è l'unico di questo stato che sono riuscita a trovare in 20 anni unico esemplare perché la slovacchia in generale fa delle tirature dei 2 euro davvero molto basse 2 barra un milione di esemplari per due euro passiamo ora alle emissioni slovene con un 2 euro del 2013 tiratura un milione di esemplari ottocentesimo anniversario delle grotte di postumia sto duero sloveno del 2018 in tiratura di un milione di esemplari è la giornata mondiale delle api a mio parere tra tutti i due euro sulla natura uno dei più belli che siano mai stati cognati siamo ora a un lussemburghese del 2009 decimo anniversario dell'unione economica e monetaria tiratura circa 800 mila esemplari a doppia figura come lo si gira si può vedere sia il volto del granduca che il disegno per l'unione economica e monetaria davvero uno dei due euro più bizzarre che ci siano mai stati ed ora andiamo in austria con un 2 euro del 2005 cinquantesimo anniversario della firma del trattato di stato austriaco in tiratura di 7 milioni di esemplari questo 2 euro del 2007 austriaco in 9 milioni di esemplari di tiratura è il cinquantesimo anniversario dei trattati di roma mentre questo 2 euro del 2009 è sempre l'anniversario uem austriaco in tiratura di 5 milioni di esemplari questo austriaco del 2012 è il decimo anniversario della circolazione delle banconote delle monete euro la tiratura precisa non la conosco purtroppo questo austriaco del 2016 è il duecentesimo anniversario della banca nazionale austriaca cognato in 16 milioni di esemplari mentre questo 2 euro del 2018 austriaco cognato in 18 milioni circa di esemplari è il centesimo anniversario della repubblica austriaca passiamo ora alle coniazioni greche con questo olimpiadi di atene del 2004 in tiratura di 35 milioni di esemplari circa è stato il primissimo 2 euro commemorativo mentre questo del 2007 sono i 50 anni della firma dei trattati di roma emissione comune della grecia stampato in circa 4 milioni di esemplari mentre questo del 2009 sempre il decimo anniversario uem in tiratura di 4 milioni di esemplari della grecia questo commemorativo greco del 2010 sono i 2 mila 500 anni dall'anniversario della battaglia di maratone ed è stato cognato in 2 milioni 500 mila esemplari questo esemplare del 2012 in tiratura di un milione di esemplari è il decimo anniversario della circolazione delle banconote delle monete euro emissione comune passiamo ora in finlandia con due esemplari entrambi del 2007 il primo è il cinquantesimo anniversario della firma dei trattati di roma in tiratura di un milione 400 mila esemplari mentre il secondo è il novantesimo anniversario dell'indipendenza della finlandia in tiratura di due milioni di esemplari questo commemorativo irlandese unico in mio possesso da dato 2009 è sempre il decimo anniversario uem e dell'irlanda è stato cognato in 4 milioni di esemplari circa spostiamoci ora nei paesi bassi con un esemplare del 2007 il cinquantesimo anniversario della firma dei trattati di roma in 6 milioni e 355 mila esemplari circa mentre del 2009 abbiamo il decimo anniversario uem in tiratura di 5 milioni e 300 mila esemplari del 2012 il decimo anniversario della circolazione delle banconote delle monete euro in 3 milioni e 500 mila esemplari circa mentre per il 2013 abbiamo la dedicazione della regina beatrice a favore del figlio guglielmo alessandro questo esemplare è stato tirato in 20 milioni di esemplari siamo ora i commemorativi del belgio il primo esemplare del 2005 e dell'unione economica e commerciale belgio lussemburgo in tiratura di circa 6 milioni di esemplari del 2006 abbiamo l'anatomium di bruxelles in tiratura di 5 milioni di esemplari del 2008 abbiamo il sessantesimo anniversario della dichiarazione universale dei diritti umani in tiratura di 5 milioni di esemplari circa del 2009 abbiamo il decimo anniversario uem del belgio in tiratura di 5 milioni di esemplari per l'anno 2010 abbiamo la presidenza belga del consiglio europeo in tiratura di 5 milioni di esemplari per il 2011 abbiamo il centesimo anniversario della giornata internazionale della donna in 5 milioni di esemplari per il 2012 abbiamo il decimo anniversario della circolazione banconota e monete euro e missione comune in tiratura di 5 milioni di esemplari mentre per il 2014 abbiamo il decimo anniversario dell'inizio della prima guerra mondiale in un milione 750 mila esemplari andiamo ora a vedere i commemorativi francesi partiamo dal 2007 con il cinquantesimo anniversario della firma dei trattati di roma missione comune in tiratura di 9 milioni e mezzo di esemplari per il 2008 abbiamo la presidenza francese del consiglio europeo in 20 milioni di esemplari di tiratura per il 2009 abbiamo il decimo anniversario uem emissione comune in tiratura di 10 milioni esemplari per il 2010 abbiamo il settantesimo anniversario dell'appello di charles de gaulle in tiratura di 20 milioni di esemplari per il 2011 abbiamo il trentesimo anniversario della festa della musica in tiratura di 10 milioni di esemplari per il 2012 abbiamo il decimo anniversario della circolazione banconota e monete euro francese in tiratura di 10 milioni di esemplari per il 2013 abbiamo il cinquantesimo anniversario della firma del trattato dell'eliseo in tiratura di 10 milioni di esemplari per il 2015 abbiamo il settantesimo anniversario della pace in europa in 4 milioni di esemplari nel 2016 invece abbiamo il campionato europeo di calcio in 10 milioni di esemplari di tiratura e il centesimo anniversario della nascita di front summit terrede in 10 milioni di esemplari passiamo ora i commemorativi italiani partendo dal 2004 col cinquantesimo anniversario dell'istituzione del programma alimentare mondiale in tiratura di 16 milioni di esemplari per il 2005 abbiamo il primo anniversario della firma della costituzione europea in tiratura di 18 milioni di esemplari per il 2006 famosissimo i giochi olimpici invernali di torino in tiratura di 40 milioni di esemplari per il 2007 abbiamo il cinquantesimo anniversario della firma dei trattati di roma e missione comune in 5 milioni di esemplari nel 2008 abbiamo il sessantesimo anniversario della dichiarazione dei diritti universali umani in tiratura di 2 milioni circa e mezzo di esemplari per il 2009 abbiamo il decimo anniversario uem missione comune in tiratura di 2 milioni di esemplari sempre del 2009 abbiamo anche il duecentesimo anniversario della nascita di luis breil in 2 milioni di esemplari nel 2010 abbiamo il duecentesimo anniversario della nascita di camillo benso conte di cavurra in 4 milioni di esemplari del 2011 abbiamo il centocinquantesimo anniversario dell'unità d'italia in 10 milioni di esemplari di tiratura del 2012 abbiamo il decimo anniversario della circolazione banconote monete euro missione comune in 15 milioni di esemplari sempre del 2012 abbiamo il centesimo anniversario della morte di giovanni pascoli in 15 milioni di esemplari del 2013 abbiamo il duecentesimo anniversario della nascita di giuseppe verdi in 10 milioni di esemplari di tiratura sempre del 2013 abbiamo anche il settecentesimo anniversario della nascita di giovanni boccaccio in 10 milioni sempre per il 2014 abbiamo il duecentesimo anniversario della fondazione dell'arma dei carabinieri in 6 milioni e mezzo di esemplare sempre del 2014 abbiamo il quattrocentocinquantesimo anniversario della nascita di galileo galilei in 6 milioni e mezzo di esemplare per il 2015 abbiamo l'expo milano in 3 milioni e mezzo di esemplari sempre del 2015 abbiamo anche il settecentocinquantesimo anniversario della nascita di dante alighieri in 3 milioni e mezzo di esemplare ancora del 2015 abbiamo anche il trentesimo anniversario della bandiera europea e missione comune in un milione di esemplari di tiratura del 2016 abbiamo i 550 anni dall'anniversario della morte di donatello in un milione e mezzo di esemplari del 2016 abbiamo i due mila e duecento anni dall'anniversario della morte di tito maccioplauto in un milione e mezzo di esemplari del 2017 invece abbiamo i 400 anni dall'anniversario del completamento della basilica di san marco a venezia in un milione e mezzo di esemplari sempre del 2017 abbiamo i 2000 anni dall'anniversario della morte di tito Livio in un milione e mezzo di esemplari. Per il 2018 abbiamo il settantesimo anniversario della Costituzione italiana in 4 milioni di esemplari. Sempre nel 2018 abbiamo il sessantesimo anniversario dell'istituzione del Ministero della Salute in 3 milioni di esemplari. Nel 2019 troviamo il cinquecentesimo anniversario della morte di Leonardo da Vinci in 3 milioni di esemplari. Andiamo ora a vedere i commemorativi tedeschi che differenzierò in commemorativi normali e serie dedicata agli stati federali che sono presenti in tutto in 17 monete. Qui in parte vi lascio la tabella con le specifiche per le cinque banche della Germania perché volendo essere specifici ogni moneta andrebbe collezionata in cinque pezzi differenti per ogni banca. Partiamo con un commemorativo del 2007, il cinquantesimo anniversario della firma dei Trattati di Roma e Missione Comune in tiratura di 30 milioni di esemplari. Per il 2009 abbiamo il decimo anniversario UEM in 30 milioni di esemplari. Per il 2012 abbiamo il decimo anniversario della circolazione banconote e monete euro sempre in 30 milioni di esemplari. Mentre per il 2013 abbiamo il cinquantesimo anniversario della firma del Trattato dell'Eliseo in 11 milioni di esemplari. Per il 2015 abbiamo due esemplari. Il venticinquesimo anniversario della riunificazione con l'ex DDR in 30 milioni di esemplari. DDR sta per Repubblica Democratica Tedesca mentre il secondo è il trentesimo anniversario della bandiera europea e Missione Comune in 30 milioni di esemplari. Andiamo ora a vedere il primo esemplare del 2006 per la Serie degli Stati Federati, Hostlentor a Lubecca in 30 milioni di esemplari. Il secondo esemplare del 2007 è il Castello di Schweren in 30 milioni di esemplari. Mentre per il 2008 il terzo esemplare è la Chiesa di San Michele in 30 milioni di esemplari. Per il 2009 abbiamo la Chiesa di San Luigi di Francia a Serbrouken in 30 milioni di esemplari. Per il 2010 abbiamo il Municipio di Brema e la Statua di Rolando in 30 milioni di esemplari. Per il 2011 invece abbiamo il Duomo di Cologna in 30 milioni di esemplari. Per il 2012 abbiamo il Castello di Neutonschwein in 30 milioni di esemplari. Per il 2013 abbiamo il Monastero di Mulberon in 30 milioni di esemplari. Per il 2014 abbiamo la Chiesa di San Michele a Hildesheim in 30 milioni di esemplari. Per il 2015 abbiamo l'Ex Chiesa di San Paolo a Francoforte sul meno in 30 milioni di esemplari. Per il 2016 abbiamo lo Zavinger a Dresda in 30 milioni di esemplari. Per il 2017 abbiamo la Porta Nigra a Treveri in 30 milioni di esemplari. Per il 2018 abbiamo il Castello di Charlotte Amber in 30 milioni di esemplari. Mentre per il 2019 abbiamo il settantesimo anniversario del Bundesrat in 30 milioni di esemplari. E per finire torniamo in Slovenia con un 3 euro da collezione del 2013, il trecentesimo anniversario della rivolta contadina di Tolmin. Questo 3 euro ha una storia molto particolare. È arrivato nelle mie mani direttamente da un camion di fiori partito dall'Olanda. È stato buttato in un parcheggio, probabilmente creduto un falso o un tarocco, e mi è stato portato dal mio datore di lavoro di allora che mi chiese se ne sapevo qualcosa, se fosse vero, se aveva un valore. Io ho detto che probabilmente era un vero, l'ho pagato 3 euro e me lo sono portata a casa. Ed è ancora fior di conio, splendente, nella mia collezione. E per questo episodio amici collezionisti era tutto. Vi ricordo di iscrivervi, di attivare la campanella e di spolliciare il video se vi è piaciuto. Per qualsiasi informazione lasciate un commento. Mi raccomando, seguiteci!